salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di valfer games io sono valfer il signore dei giochi e bentornati bentornati ancora una volta su escape from tarkov oggi ragazzi farò una piccola guida però su una cosa diversa un'arma che già abbiamo visto però come migliorarla a tal punto da essere un laser automatico su lunga gittata che non lascia tregua e soprattutto che non lascia scampo al bersaglio indistintamente da quanto sia corazzato allora l'arma in questione non è il vector che vedete qui io questo sperimentale questo vector sta portando i suoi buoni risultati ma c'è un'arma migliore per quanto spara un po' più lentamente che sarebbe l'MPX nel mio caso è l'MPX pipo visto che il mio personaggio nel gioco si chiama mi fa male il pipo e quindi quando uno viene ucciso da mi fa male il pipo la cosa è grave comunque sia proviamo quest'arma allora io metto di lato momentaneamente il vector prendo l'MPX pipo prendo anche i caricatori ci buttiamo dentro un po' di munizioni 7n31 che mi crafto io e che utilizzo sempre tra poco vi dirò anche quanto costa moddarlo così ovviamente perché ha un costo e andiamo nel nostro nascondiglio a provarlo allora che cos'è quest'arma nello specifico moddata così innanzitutto è un'arma con pochissimo rinculo ragazzi con un mirino io ho messo questo perché va da 1x a 4x quindi 1x 4x 1x 4x ha in più come potete vedere sotto la crocetta centrale un 3 poi un 5 un 6 un 7 dopo un po' l'8 perché giustamente alcuni bersaglio io devo sparare qui sparo il colpo quello è il bersaglio immaginiamo che sia più di 200 metri io dovrò mirare così per fare in modo che il proiettile con l'arco di curvatura cada e colpisca il bersaglio ed è un mirino abbastanza buono in più può essere cambiato sulle brevi gittate con queste piccole tacche di mira sopra molto molto semplici tacca di mira semplice ma precisa perché ciò che viene coperto dal quadratino che c'è davanti è proprio ciò che verrà colpito l'importante è che sia coperto da quel quadratino ora quest'arma è modata ragazzi in modo da essere un'arma estremamente furtiva e letale in grado di uccidere con estrema rapidità tutto ciò che becca l'importante è beccarlo ovviamente anche in corsa o che cammini sarà facile beccarlo proprio per il via del fatto del caricatore a tamburo da 50 colpi quindi noi miriamo seguiamo il più possibile un po' davanti un po' addosso il bersaglio mentre smitraiamo ovviamente così facendo tranquilli l'ho già provato il bersaglio muore senza se e senza ma a meno che non sia desincato e quindi l'hit count del gioco sia andato a farsi benedire come spesso succede ultimamente ora proviamola nel dettaglio allora io rimetto con le tacche di mira queste qui allora la proverò sparando in piedi in automatico al bersaglio laggiù come vedete dove va la crocetta vanno i colpi rinculo veramente irrisorio ovviamente sembra molto il rinculo perché abbiamo comunque un mirino che fa uno zoom quindi ci fa vedere da più vicino il bersaglio e quindi possiamo avere una percezione diversa del rinculo dell'arma e su come arrivano i colpi ovviamente quest'arma spesso vi troverete ad utilizzarla o in cqb quindi sparate senza mirare o stando furtivi quindi accucciati o sdraiati proviamo come vedete già cioè già il bersaglio con solo 20 colpi o anche 10 già sarebbe morto indistintamente da se ha la slick o no perché mentre lo colpiamo cercheremo di mirare la testa il casco altin gli parerebbe il culo essendo visiera a livello 6 però diciamo che per tipo 2-3 colpi il quarto colpo già lo ucciderebbe lui non avrebbe neanche la possibilità di capire noi da dove lo spariamo proviamo a sparare al bersaglio lì che è più lontano già il bersaglio sarebbe no morto sarebbe di più ora quest'arma ragazzi esaminiamola bene nel dettaglio perché l'abbiamo già vista però non moddata in questo specifico modo come l'ho provata io e come veramente sta dando grandi risultati nelle partite allora mpx lo rimettiamo qui e lo esaminiamo allora è un mpx moddato così però potete notare che più che una mitraglietta sembra un fucile m4 questo perché l'mpx fa parte della famiglia m4 dei fucili però è la versione mitraglietta poi c'è l'mcx che è la versione fucile dell'mpx sempre famiglia m4 però con un calibro diverso ora io l'ho moddata esattamente così ho messo questo calcio b5 precision che è uno dei migliori per ridurre il rinculo con ovviamente il miglior tubo all'interno per agganciare il calcio che riduca ulteriormente il rinculo e l'attacco suo quello necessario per attaccarlo il mirino direttamente questo potrei mettere gli altri mirinetti sopra con i supporti ma frega un cacchio perché già lo zoom minore che dà è uno per ragazzi quindi lo stesso zoom che ci darebbe la visuale di un normalissimo red dot nonostante è un mirino da lunga gittata caricatore da 50 colpi ovviamente ci permette di sparare tanto infatti ha un'ergonomia irrisoria però questa cosa dell'ergonomia irrisoria non si nota perché spesso l'ergonomia è la velocità col quale prendiamo la mira la mira la prenderemo da lontano da vicino spareremo sempre senza prendere la mira quindi l'ergonomia su quest'arma va ignorata poi ovviamente rk1 l'rk2 già sarebbe meglio però l'rk1 è quello a mia disposizione per ora che riduce di più il rinculo infatti ha 27 di rinculo ragazzi è un laser il silenziatore o spray 9 che è il migliore per quest'arma per ridurre ulteriormente il rinculo ovviamente poi l'aggancio lungo e la canna lunga la canna lunga riduce ulteriormente il rinculo infatti l'arma arriva a 27 esatti di rinculo distanza utile 800 metri in gioco ragazzi sarà praticamente impossibile arrivare a dover sparare a più di 1000 metri quindi 1000 metri è il massimo al quale si può arrivare si ci arriva massimo su vuz però già 800 metri sono più che buoni per cecchinare con il fuoco automatico su lunga gittata e credetemi far veramente bestemmiare la gente ora vediamo un attimo il prezzo quindi i vari componenti il totale senza considerare i caricatori la leva d'armamento perché è integrata nel fucile il tubo e il calcio che per qualche motivo così non me li trova però se vado sul singolo calcio faccio il tasto destro per trovarlo nel market me lo trova calcio e tubo sono più o meno ragazzi 34.000 rubli uno il calcio e 24.000 rubli il tubo il caricatore dovrebbe essere sui 20.000-25.000 rubli massimo in base a quanti ne comprate io ho speso in totale 390 dollari di mpx preso da payskipper che vi ricordo che ve lo vende già dal livello 2 però se avete payskipper al livello 3 potete avere un po' più di componenti per trasformarlo come ce l'ho io al momento la skier l'impugnatura rk1 20.000 rubli e qualcosa il mirino frontale va ignorato perché è già integrato nell'arma così come la guida il silenziatore che si prende da mechanic livello 3 31.000 rubli altro mirino integrato nell'arma va ignorato l'estensione dell'MPX 90 dollari la canna lunga 79 dollari il mirino 317 dollari l'attacco per il calcio 32 dollari il castello che va ignorato perché è integrato nell'arma e l'impugnatura pure totale complessivo considerando anche questi qui che non ci trova 166.000 rubli 763.000 cioè 166.000 763 rubli per essere precisi il tutto ragazzi però per averlo bisogna avere mechanic al 3 per un componente o due cioè per la slitta per quanto però sia integrata nell'arma e il silenziatore soprattutto che poi va anche sbloccato facendo una delle missioni base di mechanic e pacekeeper a livello 3 obbligatoriamente questa arma ragazzi su lunga gittata è portatrice di morte e distruzione su larga scala senza se senza ma ripeto anche bersagli molto girati come magari attrezzati con altin e slick resistono poco io con questa qui due volte sole due volte sole poi non l'ho potuto luttare perché giustamente sono arrivati anche tipo 3 team da 5 di player lì a rompere il cacchio giusto nel momento sbagliato ho ucciso Sturman e sul reserve in un'unica partita che ho fatto da solo partendo da nudo con quest'arma con un caricatore da 50 ho ucciso il capo dei rider con tutte le guardie con poche smitragliate cioè un caricatore da 50 a me è più che bastato è avanzato sono rimasto sono tipo a 3 colpi in canna ho ucciso il boss scav con le guardie poi sono morto dopo perché giustamente io sparo sono lì per i fatti miei poco dopo arrivano gli sciacalli quindi i team di player da 5 tipo 2-3 team da 5 lì a rompere il cacchio che giustamente tiro da solo contro 15 persone non ho potuto fare nulla e sono morto però quest'arma si è rivelata veramente potente indistintamente dal mirino che mettiamo detto questo ragazzi io spero che questa guida vi sia utile qualora vogliate anche voi moddarlo così e provarlo credetemi funziona e anche troppo bene su larga scala detto questo da Walfair Games è tutto alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.